Ecco perché 2 miliardi e mezzo a noi sembrano e poi il governo per un motivo quale che sia d'azzardo e cioè che anche i dirigenti che dovevano controllare e che sono stati sanzionati la sanzione anche qui con una motivazione che lascio a voi giudicare cioè si è detto beh in fin dei conti è come dire ho detto in aula lo ripeto a voi e poi viene sanzionato ma se si addormenta del tutto beh allora gli riduciamo la sanzione comunque poco peso no noi siamo qui per un'operazione verità e sta a voi giornalisti la responsabilità di far uscire queste cose stroccate voi siete stati chiarissimi grazie